Vabbè fondo al dado, dopo gli diamo una mano drettina, come base, nera. Vabbè fondo al dado, dopo gli diamo una mano. A posto, prima colata fatta, adesso attendiamo che la resina asciuga e ci vediamo domani per la seconda colata. Ok, guarda che effetto ha specchiato la resina. Insomma, direi che prima base è positivo, andiamo avanti con i colori. Questi colori. Vabbè, siccome alzò io vado a scordare di accendere il microfono. Comunque, devo fare un altro brindisi a questo lavoro per stare proprio bene. Allora, la prima riga mi è piaciuta proprio col bianco. Adesso andiamo avanti con le altre riga e vediamo che succede. Uniposca. Forever. Tutti la spira! La grisa girata? Sì? Sì? La grisa girata conclusà ok adesso rimettiamo a riposare il quadro e lo facciamo asciugare fino a che non tira la resina a domani 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 a domani